Benvenuti nel mondo di orologi Bifora. Bifora è un marchio tedesco conosciuto per la produzione di orologi da tasca e da polso. Fondata nel 1900 da Josef Bidlingmeier, l'azienda ha iniziato producendo casse per gli orologi, che esportava soprattutto in Svizzera. In seguito, Bifora si è specializzata nella produzione di orologi da tasca con movimenti svizzeri, e nel 1928 ha realizzato per la prima volta in Germania, un movimento specificamente progettato per un orologio da polso. Negli anni 50, Bifora era diventata un'azienda importante che impiegava un migliaio di dipendenti, e nel 1960 realizzò il primo cronometro automatico tedesco, l'UniMatrix Zero. Negli anni 70, Bifora produsse diversi movimenti al quarzo, e nel 1977 presentò il Flatline, uno tra i movimenti al quarzo più sottili al mondo. Purtroppo, nel 1977 l'azienda fallì e venne rilevata da un'azienda indiana. Nonostante la scomparsa dell'azienda originale, il marchio Bifora è sopravvissuto fino ad oggi grazie alla nuova Bifora Oren, in Germania. La società ha continuato a produrre orologi di alta qualità, mantenendo il nome e la reputazione del marchio. Oggi, il marchio Bifora è conosciuto per la produzione di orologi da polso eleganti e di alta qualità, che riflettono l'attenzione al dettaglio e la maestria artigianale che hanno contraddistinto l'azienda fin dalla sua fondazione. Bifora produce orologi da uomo e da donna, che spaziano dal design classico a quello più moderno e sportivo. In conclusione, il marchio Bifora ha una lunga storia di produzione di orologi di alta qualità, che riflette l'attenzione al dettaglio e la maestria artigianale che hanno contraddistinto l'azienda fin dalla sua fondazione. Oggi, Bifora Oren GmbH continua a produrre orologi di alta qualità che rispettano la tradizione del marchio, e che sono molto apprezzati dagli appassionati di orologi in tutto il mondo. Grazie per la visione!